Mi chiamo Voto Indemiconi, sono il direttore regionale dell'Infcom International per l'Europa e sono qua all'inconvenzione della SIEC per la terza volta quest'anno, nel 2014. Noi abbiamo un raccordo in collaborazione con la SIEC da parecchi anni e quest'anno sono stati invitati a fare una presentazione sulle nostre notagini che abbiamo fatto e quest'anno è la terza volta che l'abbiamo fatto a livello mondiale e naturalmente anche con le regioni, inclusa l'Europa. Altrimenti facciamo con la SIEC da anche due anni una serie di webinar e speriamo che la facciamo anche nel 2015. Inoltre la SIEC ha firmato con noi un accordo sulla produzione del Sensus che è stata aggiornata, la prima volta l'abbiamo fatto 4 anni fa e adesso abbiamo firmato insieme l'accordo per i prossimi 3 anni. e speriamo che sarebbe anche utilizzata dal pubblico, dall'industria italiana nel futuro più di quello che abbiamo registrato nell'anno passato. Inoltre a questo spero che sarà di più interesse nel nostro programma di certificazione CPS. Mi auguro qua un buono convegno e speriamo che l'interesse cresce nel futuro. Grazie.